He broke my heart, and now it's raining, just to rub it in, I'm at your door, I feel so crazy about it. You say I told you so, you saw it long ago, you knew he had to go. Vogliamo andare a cercare i nostri ospiti, i nostri clienti in giro per il mondo. E preferiamo farlo in maniera diretta, mettendoci sulla faccia, perché nessun altro sistema può sostituire il contatto, il calore del colloquio con le persone vere. Un anno sicuramente positivo, siamo in un trend positivo già da un po' di tempo, specialmente nel mercato svizzero, che per noi è il secondo mercato per importanza come numero di persone, ma il primissimo per importanza del numero rispetto alla popolazione naturalmente svizzera. Siamo stati, andremo a Zurigo, a Sangallo, a Ginevra e questo evento bellissimo a Lugano, del quale non posso che non ringraziare Alex Rinesh, un artista che ha dedicato il suo lavoro, questa mostra Linee di Costa, per il suo amore verso l'Elba, che ha scelto quale destinazione per cui vivere una buona parte dell'anno. L'abbiamo investito in maniera diretta nella compagnia che ha messo in piedi di collegamento diretto Lugano-Elba, quest'anno i voli sono stati pressoché sempre completi, ci avevano chiesto di allungare ancora il periodo della stagione e credo che per l'anno che viene dovremmo vedere di avere delle macchine più capienti oppure dei voli più frequenti, sia con la Silver Air che con l'Inter Sky che collega Zurigo e stiamo cercando di aprire una linea nuova su Ginevra.